vado in ufficio eh che faccio io cosa fa guarda l'oroscopo eh ma deve fare qualcosa di più ma deve fare qualcosa di più adesso non puoi dire queste cose comunque io consiglio agli italiani di mettersi eh per esempio in casa perché no una stufa a legna ma come fa in attesa che arrivi la fusione nucleare la fusione nucleare si parla di duemila cinquanta duemila sessanta duemila settanta non è tanto dovrebbe arrivare la fusione nucleare eh nel frattempo si mettono se uno ha un boschetto se uno ha un boschetto di proprietà la legna si possono non tutti possono ecco appunto in effetti non si possono certo allora magari i condomini possono potrebbero montare dei pannelli solari ma dove eh no per tutto ma per far bisogno di tutti bisogna ricoprire il palazzo eh appunto non è facile costerebbe dai due a tre milioni di euro allora si potrebbe fare il geotermico ma scendere sotto i centocinquanta metri non è facile magari passa la metropolitana eh una bella paleolica lei dice cento metri ma far rumore non si dole poi calcoli che al giorno d'oggi con la speculazione il vento te lo farebbero pagare a mille euro a raffica ma vede che sta speculazione quindi escludendo i pannelli solari sì escludendo la stufa o la paleolica cioè una eh soluzione che oggi eh alla portata eh di tutti qual è il divaricatore anale cosa eh divaricatore anale sì perché quando come arriveranno le bollette di eh novembre sì aiuterà a reggere il colpo sì a tutti